ben trovati quando faccio questo contenuto e notte fonda dopo la partita tra la nazionale l'inghilterra finita 2 a 1 a fuori dell'inghilterra per fortuna come sapete io sono contro la nazionale da sempre non da oggi di questo il primo modo di parlarne fra poco ma francamente non sono usciti dispositivi del consiglio di stato che sono molto molto importanti oggi il consiglio di stato era chiamato a decidere per il ricorso della figc contro il tar che aveva dato ragione a paratici e cherubini per ottenere la carta segreta e quindi la carta poi del primo marzo del 2021 perché la juventus riteneva e forse ritiene ancora che attraverso quella carta si può dimostrare che i tempi per i quali chi ne ha operato non sono quelli giusti e farebbe annullare totalmente il processo ma detto questo il processo ha anche tanti altri vizi di forma che ormai stiamo dicendo e ripetendo da mesi detto questo vi dico anche che è subordinato il fatto che se il consiglio di stato in questa sentenza che è ulteriormente importante dovesse dare ragione al tar e quindi non alla figc che ritiene che per ottenere la carta bisognava fare tutte e tre i gradi di giudizio ma mentre ne manca uno vorrà dire che sarà una svolta storica perché a quel punto dovranno riscrivere le regole della giustizia sportiva e anche della giustizia riguardante un po il calcio perché perché per andare al tar non bisognerebbe fare tutte e tre i gradi di giudizio quindi la sentenza del consiglio di stato farà cassazione farà legge farà storia ecco perché è molto attesa non tanto per il merito specifico che pure è molto molto importante perché la juventus se il consiglio di stato lo confermerà appunto la sentenza del tar può prendere gli atti che gli sono stati forniti e portarli al collegio di garanzia il 19 aprile quindi pensate quanto è importante questa decisione del consiglio di stato ma anche perché soprattutto perché storicamente al tar ci si può rivolgere senza effettuare tutto l'iter giudiziario sportivo che invece impedì nel 2006 alla juventus di andare appunto al tribunale amministrativo una sorta di sfida se invece il consiglio di stato dirà che la i legali di paratici e cherubini non potranno portare la carta il 19 perché dovevano fare tutte e tre i gradi di giudizio sarà una vittoria parziale della figici perché a quel punto rimane in vigore l'opzione che per andare al tar bisogna attraversare tutte e tre i gradi di giudizio immaginate quanto è importante questa sentenza del consiglio di stato che si è riunito da poche ore in camera per decidere ma il dispositivo probabilmente verrà dato nelle prossime ore in pratica in pratica la nazionale ha perduto ha perduto 2 a 1 come ben sapete ma io ho fatto il tifo contro faccio sempre il tifo contro ci sono gli juventini o non ci sono gli juventini e praticamente non c'era nemmeno uno juventino tra la panchina e e il campo c'è però un aspetto che va 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 detto innanzitutto non c'era più la non c'era più vialli la prima volta senza vialli della nazionale e questo è stato ricordato lo leggo perché io non ho visto la partita anche se l'uefa non si è comportata bene come al solito e questo francamente ci mette un po di distretto di tristezza perché vialli è stato vialli ma ricordiamolo sempre come uno dei grandi campioni che hanno vestito anche il bianco nero le rinunce a chiesa locatelli chinde sciglio gatti lugano per il fagioli e anche miretti anche se miretti francamente accostato alla nazionale mi sembra particolarmente diciamo azzardato e l'indisponibilità di bonucci che però era stato convocato per la prima volta dove 29 anni non nessuno juventino ha messo la maglia azzurra senza in una partita ufficiale la partita come sapete terminata due a uno con un attaccante francamente che in italia forse non c'è mai stato e il centravanti francamente con toloi che un brasiliano centravanti che un argentino quando meno toloi gioca in italia ha potuto optare vabbè ma queste sono cose che riguardano l'italmancini questo allenatore fallimentare che ancora si mette sul petto lo scudetto di cartone immaginate di che cosa stiamo parlando questo fallito doveva dimettersi dopo non essere riuscito a portare l'italia ai mondiali allora 29 anni fa l'ultima italia senza la juventus una squadra vi ricordo la juventus che col proprio blocco ha marcato a fuoco tutti i più grandi successi dei mondiali del 1934 del 1938 del 1982 del 2006 e agli europei del 68 del 21 passando per le olimpiadi del 1936 era il 1994 il commissario tecnico era rigo sacchi e la nazionale vice campione del mondo in carica batte l'estonia per 2 a 0 in trasferta con i gol di panucci e dell'ex juventino casiraghi anche in quel caso è una partita valida per le qualificazioni ai campionati europei quindi dopo 29 anni non c'è stato nessuno juventino ma storicamente come sapete senza i giocatori della juventus diventa per fortuna un'italietta perché io personalmente non voglio che i giocatori della juventus vadano in nazionale e non ci devono andare io ho sempre detto la juventus non deve mandare i giocatori nazionali non si può perché nel momento in cui ti iscrivi al campionato di serie a e fai parte della federazione se ti chiama il ct ci devi andare non ti puoi non ti puoi rifiutare anche perché per i giocatori è un fatto importante però quante volte non sono stati chiamati giocatori di squadre che devono affrontare partitissime di serie a contro la juventus e non li hanno chiamati per non farli infortunare per non farli giocare per non farli star male il problema è anche un altro ma siamo certi che mancini non ha chiamato i giocatori della juventus perché non li ha ritenuti all'altezza io non penso che kin sia inferiore a re segvi e che non poteva essere convocato il dubbio personalmente mi viene in pratica io credo che altri due motivi hanno spinto a non convocare innanzitutto la paura che venissero fischiati a napoli nello stadio maradona hanno convocato bonucci sapendo che non io non poteva rispondere giusto per tenere aperta quella quel rapporto e poi non dimentichiamoci la guerra tra la figici e la juventus e chi mi dice a me che i giocatori della juventus non sono stati convocati perché la federazione italiana gioco calcio ha messo il veto o perché c'è questa guerra il ricorso al tar è stato una uno screzzo molto molto pesante molto ampio quindi i fischi possibili ai giocatori della juventus a napoli è la guerra della federazione alla juventus e viceversa sono questi i motivi per i quali i giocatori della juventus non sono stati convocati beh a pensare male non si fa peccato e non si sbaglia nemmeno francamente questa situazione è particolarmente strana e questo è un quesito che vi pongo e che vi invito a farvi dunque esporre secondo voi per quale motivo non li ha convocati perché sono scarsi più degli altri perché venivano fischiati a napoli o perché c'è la guerra tra la federazione la juventus caso strano dopo 29 anni non c'è nessun giocatore della juventus nella nella nazionale hanno perso perché fortuna hanno perso vi lascio a questo quesito e vi invito a scrivere qui sotto il video la vostra opinione in proposito naturalmente se lo ritenete opportuno mettete anche un like iscrivetevi al canale e rafforzate appunto il canale se lo ritenete opportuno sennò benvenuti lo stesso non c'è preoccupazione col pogobbo mi dicono ha detto iscrivetevi al suo canale perché vuole fare le apparizioni nelle tv nazionali quindi se le fonte della juventus e parla delle tv nazionali lo ha detto col pogobbo me lo hanno detto sono andato a verificare e realmente il il tifoso sardo della juventus o meglio il tifoso di se stesso imprenditore di se stesso perché con la juventus vuole appunto fare le apparizioni in tv guardate lo ha detto proprio chiaramente quindi se mi dovete mettere i like o vi dovete scrivere al canale perché io devo fare qualche apparizione oppure devo avere qualche interesse mio no non lo mettete nei like e nel mi piace né tanto meno il come si dice l'iscrizione al canale se invece ritenete opportuno che queste informazioni possono essere a voi gradevoli ecco mettete pure il like e iscrivetevi al canale e notte fonda quando vi sto parlando grazie a tutti quanti voi per avermi seguito mi raccomando il quesito è secondo voi perché non hanno convocato i giocatori della nazionale della juventus nazionale perché sono più scarsi degli altri perché venivano fischiati a napoli o perché c'è la guerra tra la juventus e la federazione alla prossima